buongiorno a tutti questo è il paesino dove c'è la casa di airbambi si chiama rovenot vicino a Dejoz niente un piccolo paesino in cui non si può entrare in macchina infatti le macchine vanno lasciate all'esterno la casa è immersa nel paesino sono poche case sono una trentina di case con la fontana e prati ai piedi delle montagne molto carina molto bella ecco la casa si trova immersa tra altre case tipiche valdostane tipo questa con i fiori all'esterno tutto il legno ed ecco la casa all'esterno piccolina molto bella piano piano sotto un balconcino e poi sopra abbiamo le stanze e il bagno molto molto carino immersa comunque un bellissimo contesto questo è un caso in legno qua qua ci sono le montagne il nome del posto è lo granide de vin francese fa un po' cagare siamo aspettati da maria vedete quindi sopra in legno sotto tutto in pietra molto bello quindi questo è l'ingresso poi entriamo invece abbiamo vissuto qua due giorni la casa si presenta così tanto elicotteri dell'elisoccorso siamo in montagna nel parco nazionale del gran paradiso la cucina è nuovissima perfetta tutta funzionale col gas che si apre chiude i fornelli che funzionano ha detto al forno non è roba da tutti e frigo nuovissimo abbiamo la stufa che funziona perché qua di sera comunque la temperatura noi siamo a luglio ed estate scende e tavolo divanetto la tv che manco abbiamo acceso qualche cazzo c'è che non abbiamo neanche aperto a cose cose tipiche ecco vabbè qui un mix di funghi purpuri qui abbiamo l'estintore per eventualmente la stufa qui la stufa infatti va a pellet cioè il pellet molto bello molto bella la stufa vorrei anche io in casa poi per salire il proprietario certo di toglierci le scarpe e utilizzare eventualmente le ciabatte in dotazione vabbè mettiamoli su calzini super belli e qua si va nella parte superiore che ecco una cosa è il soffitto molto basso magari non si nota però ci sta è una casa tipica e quindi ci sta il soffitto basso andando su tutte le scale in legno e la parte superiore forse la parte più bella di tutta la casa perché abbiamo questi utensili da altri tempi qui abbiamo il mattone che è fighissimo qui abbiamo la caldaia qui poi c'è il bagno appartate come si accende super funzionale con tutto nuovissimo la doccia il water il bidet specchio e poi qua c'è il il letto la camera da letto con eventualmente il calorifero l'esterno che da appunto sulle sulle case fuori il letto che comodo morbido con due cuscini diversi così almeno nessuno litiga e poi le travi le travi in legno che sono una delle figate di questa camera eventualmente qua potenzialmente ci potrebbe essere un terzo letto con questo sarcofago stavo dicendo baule e poi c'è un armadio la casa è molto molto bella intanto mi rimetto le scarpe noi la consigliamo il luogo le escursioni da fare qua sono tantissime il luogo è bellissimo siamo nel parco nazionale del gran paradiso e niente semplicemente abbiamo speso 70 euro a notte quindi diviso 2 su 40 in questa casa ovviamente stupenda ammortizzato un po' i costi magari fatti centi da mangiare qua in casa i ristoranti nella zona ce ne sono ma non troppi e niente questo è il primo video di un'idea di video che è recensia i casi su Airbnb vi aspetto al prossimo video e sotto nella descrizione c'è il link della casa se volete vederlo ciao a tutti